L'emendamento Salva Venezia attenua le sanzioni e quindi permette di mettere soldi per il fondo integrativo dei dipendenti e poi attenua anche la sanzione dei minori fondi provenienti dallo Stato. Restano comunque una cinquantina circa di milioni da recuperare e questi dovranno essere spalmati su più anni grazie ad una norma nuova approvata dal Parlamento. La CGL dice che ora possiamo finalmente assumere i precari. Questa è un'idea assurda della CGL nel senso che sono possibili ovviamente alcune assunzioni per sostituire persone indispensabili che vanno in pensione ma non si può più pensare di fare quelle assunzioni allegre che hanno caratterizzato la macchina comunale per tutti questi anni. Insomma siamo a 3.200 dipendenti più 6.800 nelle partecipate ecco la macchina comunale è esplosa anche per questo motivo. Questi giorni avete lanciato una provocazione. Nessuno vuole i vecchi amministratori voi invece li volete. Com'è? Sì abbiamo lanciato questa provocazione diciamo perché è il martedì grasso di carnevale. Si tratta ovviamente di uno scherzo. Non ci sogneremo mai di accogliere in giunta 5 Stelle, Simeonato, Orsoni, Ferrazzi, Bergamo ma è un chiaro modo per dire ai cittadini diffidate dai tre menestrelli del PD. Loro stanno scherzando e vi prendono in giro tutti i giorni. Loro dicono di non avere niente a che fare con la vecchia amministrazione, con il PD. in realtà sono sostenuti in parte dalla vecchia amministrazione, hanno convissuto con loro come è nel caso di Jacopo Molina oppure sono diventati senatori come nel caso di Casson grazie a questa classe politica.